buongiorno a tutti ecco stiamo a villa potenza ecco dalla parrocchia santissimo crocifisso oggi nella festa di sant'antonio abate abbiamo ecco benedetto ecco tutti gli animali ecco della nostra dei fratelli ecco della nostra parrocchia e anche ecco i mezzi anche di agricoli oggi con noi sta samuele fraticelli ecco che ci dice ecco due parole buongiorno a tutti sì abbiamo deciso anche di benedire i nostri trattori perché comunque sia i trattori hanno un po un collegamento con gli animali in campagna una volta si lavorava con gli animali e quindi col tempo c'è stata la modernizzazione e quindi sono arrivati i trattori ed è per questo quindi abbiamo deciso di fare la benedizione anche di questi nostri mezzi grazie a tutti e buona domenica ma Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.